La pratica del cabotaggio sfrutta i principi dell'omeopatia, diluzione e sbattimento, per potenziare l'effetto dei principi attivi dannosi, quali carboplatino, vaccini, cellule profetali. Tali sostanze vengono rilasciate in enormi masse d'acqua, lago, mare, centrifugate 100 volte dalle aliche del piroscafo, e lasciate diluire. L'effetto viene a volte ulteriormente potenziato con ulteriori passaggi, anche senza rilasciare principio attivo, ma rimescolando il contaminante già scaricato in precedenza, fenomeno dello schiumaggio. Questa modalità di diffusione consente ai perpetranti un notevole risparmio di costose materie prima rispetto alla vecchia tecnica delle scie aeree. Infatti è sufficiente uno fratto 100.000 di materiali per ottenere lo stesso effetto contaminante. Abbiamo vinto la battaglia contro le scie chimiche. È stata dura, ma con anni di lotta li abbiamo fermati, il cielo è liberato. Stiamo vincendo la battaglia contro le onde 5G. Molti comuni hanno aderito alla rimozione delle antenne nel loro territorio. Ma questa volta è stato più facile. Troppo facile. Possiamo credere che si siano arresi così facilmente. O hanno già pronta un'alternativa. Per contaminarci hanno bisogno di onde e di scie. Dove possono nasconderle? Come dice il manuale operativo Ndvo, da Uschel Aid in Plain Sight, devi nasconderti dove tutti possano vederti. Quindi metti le scie e le onde dove siamo già tutti abituati a vederle, nel mare. Si chiama cabotaggio. Ne sentirete sempre di più parlare nei prossimi mesi. Ovviamente non nei media venduti mainstream, ma nei canali liberi. Non dobbiamo farci distrarre da virus e finanza. Il vero pericolo ce l'abbiamo sotto gli occhi. Uniti vinceremo. Aprite gli occhi. La pratica del cabotaggio, conosciuta anche come cabotage, cabottasci, cabotao, sfrutta i principi dell'omeopatia, diluzione e sbattimento, per potenziare l'effetto dei principi attivi dannosi, quali carboplatino, vaccini, cellule prefetali prematurate. Tali sostanze vengono rilasciate in enormi masse d'acqua, lago, mare, centrifugate 100 volte dalle eliche del piroscafo, e lasciate diluire. L'effetto viene a volte ulteriormente potenziato con ulteriori passaggi. Anche senza rilasciare principio attivo, ma rimescolando il contaminante già scaricato in precedenza. Fenomeno dello schiumaggio a destra. Questa modalità di diffusione consente ai perpetranti un notevole risparmio di costose materie prime rispetto alla vecchia tecnica delle scie aeree. Infatti è sufficiente un offratto 100.000 di materiali per ottenere lo stesso effetto supercontaminante. Fonte Centro Studi NOC a Botaggio Maggio 2020